Benvenuti, bentornati, ciao amico mio, al Gambero Rotto, consigli culinari per noi e per gli amici. Spondiamo subito una mail dei nostri grandi ascoltatori e seguitori anche, noi facciamo un consiglio di culinaria e c'è gente che purtroppo ha capito male che purtroppo si è messa col sedere verso l'alto pensando che fosse quello, il culinaria è la cucina, i culi verso l'alto, che comunque salutiamo l'alto anche. Vediamo oggi un consiglio per la cucina veloce. Insomma, quando ci si trova a casa, fra amici, ci si presenta, insomma, così a modo, serate e giornate simpatiche. Che cosa cucinare, Davide? Che cosa cucinare? Oggi cuciniamo una cosa che è una cosa veloce da fare. Un classico piatto di una dieta mediterranea. Sì, a differenza di quello che tutti pensano, gli italiani pensano che sanno cucinare, in realtà non sanno cucinare. La pasta asciutta non si cuoce con l'acqua. Che è questa cazzata del... la pasta asciutta? Pantissima! Si prende una pentola, si mette la pasta. E la facciamo, molto semplice. La facciamo. È un piatto veloce, eh? Siamo doccio. Velocissimo. Ecco, qui bisogna accendere, accendiamo... Accendere il gas. Accendere. Non prima, perché quando non... Non è precedente. Rispondo intanto a una mail del nostro ascoltatore, citando addirittura un grande poeta, perché... Esatto, rispondiamo alle mail e... Perché il nostro ascoltatore ci ha chiesto come si fa a montare le chiare. Montare le chiare, citiamo tra l'altro il grande poeta Pagiutti, non significa fare sesso con una persona che si chiama Chiara. È importante specificare perché qualcuno ha ricevuto anche delle denunce. Un po' denunciata, un po' a cazzo. Ok, intanto la nostra cultura procede. Voi nel frattempo fate entrare i miei amici a casa, si accomodano. È un piatto molto veloce. È un piatto molto veloce, qualcosa. Ma è una cosa un po' un colluttorio del bicchierre. E' una cosa un po' così. Siamo scherzando, ovviamente deve essere dell'ottimo vino come quello che beviamo noi, altrimenti non ci sarebbe più... Vino cardarella noi beviamo. Cardarella. E' già pronto, pensate. E il piatto è pronto, ecco qui, siamo pronti. Allora, noi siamo molto per la cucina naturale, non ci serve uno scolapasta, eccetera. Noi si fa con le mani. Va tirato con la mano, vedi? Facciamo così davanti alla telecamera perché prendo un po' anch'io. E va degustata fra amici. Eccola, volete aggiungere un pomodorino, un po' il gatto, un po' di fanta? Io dico che è anche superfluo. Ciao, buon appetito a tutti. E' proprio buona. E' la pasta asciutta. Non... ma è proprio buona, eh. Buona! C'è qualcosa da aggiungere, non credo. E' una pasta semplice. E' un po'. La fare in due minuti. Poi ne attrezzeranno i vostri alpini, sicuramente. Non c'è che basti tanta bordo. Allora, noi adesso spendiamo la telecamera ma continuiamo a mangiare perché è veramente buona. Poi non potete capire quanto è buona. Buon appetito e viva il gambero rotto.